eccoci qui che stiamo salendo sulla sala il diavolo ma non sono solo stiamo facendo anche i selfie c'è la GoPro! è certo! ancora selfie vabbè stiamo cercando l'applicazione Sella del diavolo per vedere se parla stiamo aspettando te sta scaricando, è grandissima questa applicazione vabbè quanto sale è grande? no, è 25 mega cisterna è finito pubblica dov'è? download che bella applicazione ha trovato la rete wifi hotel, ristorante Cala Mosca ma non ho trovato questa cosa qua un leone che viene... ma le mie viste le leone schiacciato con l'antino non ho senso nemmeno se fosse vero minchia ancora stiamo cercando io vado 20 minuti di... di attesa dai Marco vieni a portare guarda solo almeno fare foto dai mi ha fatto cia una dai voto il cartello grazie dietro possiamo continuare il nostro percorso raccontaci la storia della sella meno male che non stiamo inquadrando in avanti cosa stavi facendo? stavi facendo? aria adesso si chiama così stavo aspettando un passero quindi la storia della sella non ce la racconti ma non so proprio si mi manca il bastoncino per la GoPro me lo devo prendere prendere le palle e tenerlo in mano fai vedere come bisogna andare in giro ma vuoi che lo vende la posta? è questo che c'è il zainetto dove puoi attaccarti ah lo zainetto questo va attaccato qui al braggio come cammini c'è la GoPro abbiamo trovato la guardate wifi qui in sala da quella casettina nel modem tanto vediamo simone che sta adoperando per farsi i selfie per fare i selfie ormai è un selfie dipendente ma se da ieri è attaccato come si chiama? c'è che instagram da ieri di nuovo che sta passeggiando si devo diminuire la sensibilità di questa cosa ogni frase che dici parte un selfie con quella cosa non posso neanche tossire che partano i selfie qua consuma la memoria facendo sensibilità poco e niente poco e niente niente devi urlare adesso ok vediamo mattia alle prese con la foto selfie ma dire selfie è troppo facile devi dire qualcos'altro minkullu si abbiamo scoperto un cuore fatto a mosaico ma qui ci doveva essere scritto qualcosa che si è cancellato sicuramente ma non so però un cuore spezzato no è un cuore spezzato purtroppo lo vedi che è lo stesso blu ehi qui siamo proprio ah da qui possiamo uscire abbiamo fatto tutto il giro c'è sole su quarto e ombra su Cagliari devo andare a studiare devo essere il diavolo c'è la wifi gratis lì ti piace il sentiero con le palle mattia? ma mi lamento facciamo il selfie video è quello che hanno staccato dalla camminata di quarto questo è stato un po' di più è stato un po' di più è stato un po' di più lo vedete anche a spazio per il letto matrimoniale ve lo affittiamo tre volte alle tre mesi all'anno ho un dubbio e se ho freddo e se mi metto la coperta rimane aperto il tetto ah no può anche chiuderlo e come? c'è il cammino guardi quando c'è il nuvoloso poi tutto chiuso il cielo non ha problemi a posto cioè non ce la potrebbero non mettere un camminetto qua succiacazze le cose apparenti delle... succiacazzi no c'è il... poi c'è anche un altro c'è la moschica e la fighera con una superficie di 28.000 allora questa minimappa questa è l'ingrandimento di questo noi siamo qua vedi? a fine percorso quindi dobbiamo beccarli prima del fine percorso aspetta è questo? questo qua è l'ingrandimento di questa mappa qua è questo? è l'ingrandimento non ce n'è altro di questo roba se oggi roba se oggi e come sono arrivati di vecchissimi? fai la domanda scusa 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 si domani la signora ha fatto il vaggin giallo si domani la signora ha fatto il vaggin giallo beh c'è una perla di saggezza una perla di saggezza una perla di saggezza qui in mezzo a dove fanno zumpi zumpi che è pieno di 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 porcheria cosa? una fogna non è un pozzo è piena di merda stessa la gopro riesce a metterà a luce cara? cara? sei proprio fighera jack jack sto volando sì sono caduta dalla sella del diavolo sto volando jack aiuto questo è il fortino aspetta ci sono militari tutto 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 è diventata casa tua questa ma c'è c'è il bagno a esterno la porta scusa aspetta iiii devi metterci un po' di grasso però cicola tante venga sicure questi guarda non devo fare solo cemento armato sopra il te no guarda un po' questo come si sta reggendo con le fazzolette si ma cosa te ne fai di una casa così grande? proprio sicure eh guarda guarda tu lo sovrai ecciti questo te lo sovrai ecciti all'illusione a scopo di purificazione spirituale la brucia non è una voglia rituale a scopo di purificazione quindi a qualcosa è per purificarsi l'acqua santa in pratica dei tempi arrivo qua sopra a purificarsi commodo nooo ah è tutto di sicca sono penicotto non c'entra niente no, giusto per avere il fondale, non vedi che è più sabbioso qua? ma questo è che? non è che scende il tuo passo di sopra e la torre? infatti quello stavo pensando quello qui non ce ne esco infatti continuiamo da qua allora questo è un video diario per chi troverà questa GoPro io vi ho voluto bene, sto per piangere di qualcosa lascio tutto quello che ho ragazzi a chi? alla PAF non c'è gente più vicina lascio tutto quello che ho a mia figlia ma se arriviamo lì c'è il sentiero è un bellissimo è arrivato scusi siamo a ULASAI stiamo arrivando al mare Mattia Mattia c'è Mattia c'è guardate che figata dove stiamo arrivando ragazzi questo è un selfie video questo è un selfie video è un selfie di riportare eccola qua eccola qua cala fighera ecco perché ci vengono nudisti perché se devi portare asciugamani costumi cioè vengono belli leggeri eccoci qui a cala fighera adesso tutti nudi eh panorama c'è mi hanno sfidato che devo fare questo pezzo con la gopro in mano in mano o in bocca anche eh fatto sì i nevetti non stavo più filmando perché stavamo facendo le foto di questo bellissimo posto che eh se i colori sono così così però d'estate è un bel giallo qui non sembrerà dalla dall'inquadratura del video è abbastanza ripida puoi confermare Mattia che c'è tutto il culo sporco dove sei caduto guardate guardate dove siamo guardate dove siamo guardate mi tuffo gente quanto dovrebbe essere profonda qui l'acqua per non morire dove sei la strada, l'arrugas, hai sbagliato la strada Simo Che cazzo sei sugli scivoli d'acqua Ciao Matti Aspetta che li accendino e li scivoli prima Bene ce l'abbiamo fatta Fatti vedi dietro Ti è piaciuto? Fantastico Così per chiudere il video in bellezza E cade Cade Qui dove abbiamo preso il caffè Però adesso andando Allora abbiamo preso due caffè Un bicchiere d'acqua Un bicchiere d'acqua Naturale Naturale E un'aranciata Allora ditemi voi L'abbiamo spesso Quanto? Quanto? Allora per l'aranciata pensavamo di più Tra l'aranciata che sono tre e un'aranciata va benissimo Cioè in un bar Allora se no ne manca un bar questo E' un... Che cazzo era scritto? Qua fuori E' un American bar E' un solarium bar restaurant E' un solarium bar restaurant Un mezzo bicchiere d'acqua 50 centesimi Un mezzo bicchiere d'acqua Cioè io con 50 centesimi Mi compro un paio di bottiglie d'acqua Forse ci avanza anche qualche tetesimo Con me le 50 Vivo con la busta del caffè Eh vabbè Però è la bella un po' Ancora a palle Ancora a palle ci sono Però è la bella un po' Sto adatto Sì Ma non per altra Noi arriviamo di nuovo giù che è buio Diciamo che Per oggi il video di Discovery Shot può finire Questa volta andiamo a porti tutti i miei occhi La prossima volta cambiamo posto Andiamo lì su Che io non ci sono mai stato E io anch'io Batti tu E quindi facciamo un altro video la prossima volta Bella a tutti Ciao